Radio Base Elezioni comunali a Nocera e Inferiore il 12 giugno si vota per rinnovare il Consiglio Comunale e con l'elezione del Sindaco e noi siamo in collegamento, anzi è qui con noi il candidato sindaco Giovanni D'Alessandro 50 anni, docente universitario, un cittadino nocerino doc che ritorna nella sua città per mettersi al suo servizio Ecco, professor D'Alessandro, così ormai la conoscono tutti in città, vecchie generazioni e nuove una scelta di campo significativa Diciamo che tanti amici mi avevano sollecitato a fare questo passo, che non erano i miei programmi di vita non avevo immaginato che mi sarei trovato a candidarmi al sindaco di Nocera città in cui sono nato e cresciuto e dove la mia famiglia è sempre stata, non si sono mai mossi da Nocera Io dopo l'università invece, che già avevo fatto a Roma la LUIS, per ragioni professionali, mi sono trasferito nella capitale e quindi non era proprio nei programmi prossimi quello di candidarmi al sindaco della mia città però con questa congiuntura, nel senso che si chiudeva il ciclo del sindaco uscente, Maglio Torquato che non si sarebbe più potuto candidare e col fatto che adesso si sono inaugurati i nuovi finanziamenti del PNRR fino al 2026, alcuni amici mi hanno sollecitato, alcuni amici diciamo più tecnici mi hanno sollecitato a scendere in campo proprio per mettere in condizione Nocera di poter utilizzare questi finanziamenti e a questi amici più tecnici si sono uniti altri come ad esempio il dottore Barbarulo che pur non essendo della mia stessa ideologia politica dà l'idea di come sul mio nome si sia creato un consenso diffuso, generalizzato di, vorrei dire, del meglio che c'è a Nocera proprio perché hanno ritenuto e ritengono che io possa dare un contributo di vero rinnovamento del modo di amministrare la nostra città La coalizione si chiama Nocera al centro, quattro liste, 96 candidati la gran parte sono tutti giovani alla prima esperienza politica ecco è quel ragionamento che diceva lei qualche secondo fa c'è una coalizione ampia di cittadini che sostiene la sua candidatura perché c'è bisogno di una svolta in città Beh, sono quattro liste in cui c'è la società civile nocerina c'è un solo consigliere comunale uscente un assessore, peraltro uno dei migliori assessori della giunta Torquato e 95 candidati per la prima volta alla prova elettorale del resto anche per me è la prima volta per quanto riguarda una candidatura importante come quella da sindaco questo vuol dire che c'è una certa garanzia nel senso che votando noi nel momento della vittoria acquisendo il premio di maggioranza cancelleremmo totalmente il consiglio comunale precedente perché entrerebbero 15 consiglieri di maggioranza cioè i consiglieri delle mie liste di cui 14 totalmente nuovi quindi un consiglio comunale di 24 componenti di cui 14 completamente nuovi vuol dire che è una vera rivoluzione una tabula rasa si azzera la politica nocerina e credo che sia anche un'esigenza avvertita dai cittadini cioè i cittadini non ritengono per quello che è stata la mia esperienza sinora della campagna elettorale che questa amministrazione uscente non intesa come il sindaco Torquato non è un fatto personale ma che questa amministrazione intesa come insieme di consiglieri comunali e quant'altro non abbiano risolto i problemi annosi di nocera e che quindi bisogna cambiare bisogna voltare pagina un turnover dunque necessario ma lei naturalmente non arriva a mani vuote a nocera inferiore ha portato giù ha messo giù insieme ai suoi un programma davvero ricco dieci punti che in qualche modo hanno come traccia principale quella della tutela ambientale e attraverso quella parolina magica sostenibilità che nocera può davvero cambiare volto? inevitabilmente la tutela dell'ambiente è una precondizione per attuare qualsiasi tipo di politica amministrativa della città il valore ambientale è un valore trasversale che deve essere ovunque quindi nel momento in cui si vuole pensare alla mobilità o all'urbanistica non lo si può fare se non in termini di sostenibilità ambientale se si vuole portare avanti la produttività del nostro territorio non lo si può fare senza tutelare l'ambiente qualsiasi cosa si voglia realizzare deve necessariamente tutelare l'ambiente questa è la ragione per cui la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile sono i punti cardine del nostro programma a cominciare dal risanamento del fiume Sarno perché l'ambiente non è un valore fine a se stesso ma è un valore collegato alla nostra sopravvivenza perché è legato alla salute dei cittadini salute dei cittadini a cui bisogna coniugare anche la salute della tasca anche perché da Nocera purtroppo ancora molti giovani vanno via perché non hanno sbocchi occupazionali nel suo programma si parla anche della zona industriale il Fosso Imperatore la cosiddetta ZES zona economica speciale come immagina di poter dare un supporto significativo all'imprenditoria e dare appunto la possibilità ai tanti giovani anche professionisti l'ha detto anche lei dal palco anch'io giovane professionista come tanti sono dovuto andare via dal mio territorio perché non avrei avuto fortuna sul mio territorio c'è invece la possibilità di una rivalsa e qual è l'azione che lei metterebbe in campo da sindaco per riuscire ad invertire la tendenza? Allora c'è da dire che a Nocera c'è un buon tessuto produttivo ci sono dei buoni imprenditori la verità è che questi imprenditori non hanno avuto il supporto adeguato da parte dell'amministrazione gli imprenditori vanno ringraziati per il fatto che investano danari sul territorio e creano occupazione l'occupazione crea ricchezza e quindi in una considerazione di ciclo economico la ricchezza va a finanziare il commercio consente di pagare le tasse e quindi il comune incamera le tasse è un circuito virtuoso che va innescato dalla creazione dei posti di lavoro ora i territori produttivi di Nocera sono quattro e hanno delle problematiche parzialmente diverse possiamo dire in termini generali che la nuova amministrazione deve realizzare tutte le infrastrutture necessarie per consentire agli imprenditori di operare al meglio e soprattutto deve sburocratizzare nel senso che deve fare in modo che chi vuole investire sul nostro territorio non abbia nessun tipo di intralcio o d'ostacolo se non quello strettamente necessario previsto dalla legge e questo non sempre è avvenuto perché qualche volta gli imprenditori hanno preferito andare fuori andare a Mercato San Severino a Battipaglia proprio perché non c'era questa particolare considerazione del loro ruolo direi non solo economico ma anche sociale nel nostro territorio professore lei per il suo lavoro dialoga costantemente e quotidianamente con i maggiori rappresentanti della politica e tecnici delle leggi italiane spesso alla Camera dei Deputati in Parlamento e in qualche modo collabora anche alla redazione di progetti Nocera ha bisogno di una progettazione ma come si fa anche con dipendenti comunali ormai ridotto all'osso e come si fa a cogliere l'opportunità di questi fondi che anche lei ha citato servirà una squadra di tecnici pronti per rilanciare davvero anche perché le infrastrutture di cui Nocera ha bisogno sono davvero tante allora innanzitutto la mia giunta sarà di persone competenti non so se la vogliamo definire tecnica perché è evidente che ci sono quattro liste che mi sostengono e quindi nell'ambito di queste quattro liste saranno diciamo ricavati i nomi tecnici dei futuri assessori il che vuol dire che chi si occuperà di sanità sarà una persona esperta di sanità chi si occuperà di urbanistica sarà una persona tecnicamente diciamo preparata su ciò che riguarda l'urbanistica il che non è sempre avvenuto nella diciamo esperienza più recente detto questo gli uffici comunali vanno valorizzati i dipendenti comunali vanno valorizzati va costituito tra le altre cose un ufficio dedicato alla progettazione per i finanziamenti perché i finanziamenti vengono ottenuti sia quelli europei che quelli nazionali o regionali soltanto dopo adeguata progettazione e poi nello stesso ufficio ci devono essere delle competenze tali da poter realizzare effettivamente le opere finanziate perché altro problema è che anche quando si ottiene un finanziamento spesso non si riesce a realizzare l'opera sono tantissimi esempi di questo noi abbiamo la rotatoria ormai famigerata rotatoria che è un'opera finanziata ma non c'è l'opera perché una volta che si è ottenuto il finanziamento poi bisogna avere anche la capacità tecnica di realizzarla questi sono tutti aspetti che vanno tenuti in considerazione per un nuovo modo di amministrare le cose vanno fatte da persone competenti da persone professionalmente adeguate per mettere in condizione la città di cambiare di disegnare la nocera del futuro e di disegnarla con i danari dei finanziamenti non con i danari degli indebitamenti che poi vanno a ricadere sulle tasche del cittadino che deve finanziarli con le proprie tasse parliamo appunto di tasche anzi continuiamo a parlarne perché insomma il cittadino spesso poi si trova di fronte alla bolletta della tari da dover pagare dell'imposta comunale c'è anche il discorso degli oneri di urbanizzazione insomma lei anche sul palco ha espresso chiaramente la sua posizione se sindaco cercherà di scoraggiare il nuovo consumo di suolo ma immaginerà soprattutto la rigenerazione ecco ci sono tante famiglie nocerine che ancora vivono in cortili in condomini anche molto grandi è possibile immaginare uno spazio di maggiore vivibilità anche in contesti storici o comunque che hanno necessità di un riattamento edilizio non solo è possibile immaginarlo ma bisogna realizzarlo io ho detto che se sarò sindaco nei prossimi cinque anni non si costruiranno più palazzi nuovi palazzi hanno c'era non ci deve essere alcuna ulteriore cementificazione con un consumo del suolo vanno fatti spazi verdi va realizzata una bella villa comunale nel centro della città e gli imprenditori che si occupano di edilizia potranno lavorare facendo altro facendo riqualificazione facendo rigenerazione urbana cioè sia di palazzi fatiscenti di abitazioni fatiscenti sia di aree fatiscenti il che vuol dire che bisogna cambiare mentalità non costruire del nuovo ma ricostruire ciò che c'è di vecchio e che va valorizzato naturalmente utilizzando sempre materiali green e quant'altro dobbiamo sempre condire qualsiasi cosa della tutela dell'ambiente lei ha detto che non c'è un vero e proprio centro ma bisogna crearne in tutti i vari quartieri anche ripartire dai centri di quartiere ha parlato anche di comunità sociali anche di centri di aggregazione e perché no di questi ospedali di comunità di cui si parla tanto in questi ultimi giorni e attraverso la rivalorizzazione della periferia non più intesa come tale che si possono costruire anche nuove volti della città noi non dobbiamo pensare più alle periferie come dei luoghi ghettizzati dove ci sono cittadini di serie B noi dobbiamo fare in modo che Nocera si consideri un agglomerato di centri una rete di centri che siano collegati tra di loro preferibilmente da una mobilità dolce nel senso che o si creano dei percorsi pedonali o anche dei percorsi ciclabili ma naturalmente dove le strade lo consentono non ovunque perché se lo facessimo ovunque non si consentirebbe neppure più alle automobili di circolare e naturalmente con dei mezzi pubblici a scarso impatto ambientale la tematica è quella di consentire ad ogni quartiere di esprimere la sua centralità quindi una città non più con una piazza unica centrale ma con una città policentrica che abbia più centri dove magari se si riescono a delocalizzare alcune attività si sa che per esempio per andare da una categoria magari di commercianti si va in un determinato quartiere o in un'altra categoria di commercianti in un altro quartiere questi sono i distretti commerciali ecco bisogna avere da questo punto di vista una visione cioè non si può pensare alla nocera del domani se non avendo una visione di come si vuole individuare nocera nella sua complessità nella sua totalità uno dei problemi che attanagli e nocerini è il traffico lei lo ha già citato quando parla di mobilità che cosa intende che cosa farà il sindaco d'Alessandro il giorno dopo in cui si insedierà quel piano traffico che è nel cassetto da tanti anni lo svincolo l'autostradale ad esempio il raccordo anche con la città dell'agro anche perché ricordiamolo Nocera è per tutti la capitale e l'agro ma spesso ha davvero poco di capitale che cosa serve per ridurre questo impatto enorme del traffico per alleggerirlo e soprattutto per garantire una migliore vivibilità dei cittadini che arrivano in città beh potremmo dire che Nocera oggi è la capitale dell'agro soltanto per gli svantaggi perché chi va in un comune dell'agro deve per forza uscire ai caselli autostradali di Nocera questa è anche una delle ragioni per cui il traffico è esagerato rispetto agli abitanti di Nocera chi deve raggiungere Nocera Superiore chi deve raggiungere Pagani deve inevitabilmente uscire dal casello autostradale di Nocera ora per risolvere il problema del traffico lì non c'è una bacchetta magica che il giorno dopo l'elezione si riesce a risolvere il problema però bisogna avere le idee chiare bisogna portare avanti l'idea di aprire dei caselli ulteriori sia verso Nocera Superiore nella zona della Betoncave sia a Pagani e poi aprire nuove strade come quella che utilizza il binario morto che parte da Grotti e arriva fino al tribunale questa è un'idea non nuova tra l'altro ma è un'idea dell'amministrazione forte del 1995 io credo che dal 1995 ad oggi non è stata realizzata adesso è il momento di realizzarla aprendo nuove strade si consente una migliore circolazione ciò non vuol dire che l'amministrazione non debba anche favorire il non avere la necessità di prendere la propria automobile Nocera deve essere dotata di servizi pubblici di una mobilità pubblica che consenta di non prendere l'automobile deve avere dei quartieri in cui si favorisce una mobilità pedonale e deve essere collegata tra i vari centri della città in maniera da non necessariamente dover utilizzare l'automobile quindi per un verso aprire nuove strade per un altro verso fare una politica di disincentivazione perché non ci deve essere necessità di prendere l'automobile Non c'è una vera città e la costruzione senza i servizi di questa città dai servizi sociali per le famiglie allo sport ecco qual è la sua idea lei aveva proprio parlato anche di un affidamento ai privati non avere appunto lo stigma di non affidarlo di una operazione che lei ha definito orizzontale come per esempio per lo stadio comunale beh questo è un modello di amministrare che è previsto dalla Costituzione dal 2001 e cioè la sussidiarietà orizzontale la pubblica amministrazione non è in grado oggi di fare tutto perché per fare tutto la pubblica amministrazione ha bisogno di soldi e questi soldi li prende dal contribuente ora se consideriamo che dopo la già precedente crisi le crisi economiche poi la pandemia e adesso la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina è impensabile che un'amministrazione comunale possa sostenere le proprie politiche attraverso il prelievo dei tributi io credo che vadano utilizzati tutti i finanziamenti possibili e da questo punto di vista ad esempio nel piano di zona ci sono stati dei finanziamenti che il comune però deve saper spendere deve saper spendere per assicurare alle famiglie un sostegno le politiche dello sport sono delle politiche che io ritengo strategiche perché lo sport non è soltanto un'attività fisica ma è anche un'attività sociale di socializzazione soprattutto tra i giovani e quindi anche da quel punto di vista bisogna che l'amministrazione ad esempio metta a disposizione le proprie strutture come può essere il campo sportivo possono essere le semplici palestre senza avere timore di affidare ai privati la gestione di questi beni laddove il comune non ha i soldi per poterli gestire in maniera adeguata in tutto questo però voglio chiarire che il comune mantiene un penetrante potere di controllo non è che l'imprenditore privato utilizza il bene pubblico e ci ricava danari senza rispettare diciamo le regole della oserei dire anche della convivenza civile restano dei beni pubblici che vengono dati in gestione e il comune controllerà che questi beni siano fruibili da tutti anche dalle fasce meno abbienti sembra proprio che questo candidato sindaco abbia davvero tanto coraggio se le precedenti amministrazioni non hanno neppure tentato l'idea di voler affidare la società sportiva gli amici tifosi del calcio avranno sicuramente qualche pensiero in più nel momento in cui andranno a votare però parlavamo anche dei servizi sociali non c'era fa parte di un piano di zona ecco anche in questo caso si può immaginare di ristrutturare meglio quelle che sono le utilities del territorio mi riferisco anche ad esempio alla multiservice anche lì probabilmente il nuovo sindaco e l'amministrazione dovrà mettere mano allora per ciò che riguarda il piano di zona e le attività delle politiche sociali credo che vadano spese appunto i soldi di quei finanziamenti ricevuti ma vadano realizzate ad esempio delle attività come quelle della casa famiglia noi dobbiamo utilizzare i beni confiscati alle mafie e lo possiamo fare proprio mettendoci delle attività sociali vanno create una casa famiglia vanno creati dei luoghi di aggregazione per i giovani per gli anziani e per le associazioni in modo che tutti possano riunirsi in ambienti direi anche protetti ma comunque l'amministrazione comunale deve farsi carico di tutte queste esigenze del territorio siamo quasi alle battute finali di questo incontro con il candidato sindaco Giovanni D'Alessandro con la sua coalizione Nocera al centro quattro liste 95 candidati quasi tutti giovani e alla prima esperienza politica però non posso non fare la domanda che riguarda la cultura anticamente Nocera si scontrava con la più elitaria Pompei e forse ne era anche più importante qualche reminiscenza storica liceale ci dice che Nocera combatté fino in fonde per la sua autonomia ecco questo orgoglio Nocerino può essere ripreso anche con la sua candidatura noi abbiamo delineato un programma a due velocità una prima velocità è quella che riguarda i problemi quotidiani della cittadinanza l'altra velocità è quella di voler immaginare la Nocera del domani una Nocera che verrà tra 20 anni ma che per venire tra 20 anni deve avere delle solide basi poste fin d'ora noi siamo partiti da un progetto che è stato presentato nel 2018 dalla Carisal e che si chiama Nuceria Genuit Pompeios perché nell'antichità Nuceria era un'unica città Nocera inferiore quella che oggi sono Nocera inferiore e Nocera superiore e sul nostro territorio ci sono dei reperti archeologici ben più importanti dal punto di vista storico rispetto a quelli di Pompei noi vogliamo valorizzare l'archeologia nocerina e far diventare Nocera un punto di riferimento internazionale anche con la creazione ad esempio di un'accademia del restauro naturalmente per realizzare questo progetto ci vogliono molti milioni di euro e molti anni perché per portare in superficie i reperti archeologici bisogna scavare in un certo modo e ci vuole del tempo noi però vogliamo porre le basi perché poi le amministrazioni future possano realizzare per le generazioni che verranno questo sogno che è un sogno a portata di mano bisogna solo lavorarci qualche cubatura lei parlava di quelle che sono sotto terra però ci sono cubature praticamente dimenticate che sono sopra la terra come la famosa caserma rossa che cosa farà il sindaco d'Alessandro con questo importante patrimonio demaniale allora noi vorremmo gestire la caserma rossa naturalmente utilizzando finanziamenti e realizzare un polo tecnologico all'interno del quale creare un incubatore di imprese magari non solo ma magari soprattutto di agritech così rivalorizzando quella che è la vocazione del nostro territorio noi vogliamo che al centro della città ci sia qualcosa di pulsante di vivo dove ci possa essere imprenditorialità giovani che vengono da fuori anziché avere i nostri giovani che vanno fuori avere dei giovani che da fuori vengono a nocera e questo può essere possibile realizzando questo polo tecnologico polifunzionale e poi perché no collegato a questo anche una valorizzazione della dieta mediterranea cioè creare un luogo dove tutti gli imprenditori dell'agroindustria possano avere come punto di riferimento anche per la diffusione della dieta mediterranea che è un qualcosa che riguarda anche la nostra salute lei fra l'altro ha promesso o meglio ha trasferito a tutti quanti noi in piazza Cianciullo la storica piazza del Vico anche l'ipotesi perché no di ripristinare un collegamento diretto con Roma che non è proprio da escludere visto che la città è stata ridimensionata nel suo tratto ferroviario metropolitano allora come tutti sanno a nocera c'è sempre stato questo treno delle sei del mattino che andava direttamente a Roma ora da nocera non è più possibile andare direttamente a Roma ma bisogna andarlo a Salerno a Napoli e poi da lì a Roma questo naturalmente non è tollerabile perché nocera così è stata tagliata fuori dal circuito principale noi dobbiamo riagganciarci sulla linea dell'alta velocità e ottenere ma questo fa parte di quel progetto diciamo avveneristico sulla valorizzazione archeologica di nocera nell'ambito di quel progetto c'è anche la previsione di una stazione sulla linea dell'alta velocità con la creazione di un grande parcheggio per cui si va lì in automobile si prende il treno ci si rega ovunque in Italia e poi ci si ritorna e si riprende l'automobile e si torna a casa come funziona nelle grandi città europee Nocera ha le caratteristiche per essere una città europea siamo davvero alle battute finali di questa conversazione con Giovanni D'Alessandro candidato sindaco per le elezioni comunali di Nocera Inferiore il 12 giugno ecco ricordiamolo ai tanti elettori soprattutto indecisi ce ne sono tanti Nocera è riconosciuta anche come quella che in qualche modo traina un voto d'opinione e anche laboratorio ecco un appello verso questi tanti nocerini che anche lei ha definito in alcuni casi scoraggiati e un po' stanchi della politica locale in che modo incentivare questo nocerino incerto a andare di nuovo alle urne e votare lei beh i nocerini sono sfiduciati i nocerini non credono forse più a nessuno perché in passato sono stati traditi però noi veramente credo che stiamo dando l'idea già dalla campagna elettorale di essere qualcosa di nuovo intanto è nuovo il nostro modo di parlare il nostro linguaggio non facciamo promesse ma parliamo soltanto di proposte concrete siamo sempre diretti e diciamo la verità non siamo ipocriti per cui diciamo che l'acqua è pubblica e non si paga l'acqua è pubblica ma il servizio idrico si paga il problema è di verificare che le tariffe siano adeguate e non siano esagerate ma questo è un altro discorso noi abbiamo sempre parlato con chiarezza sui problemi senza demagogia e senza fare i populisti io credo che questo sia molto apprezzato dalle persone perché i nocerini apprezzano l'affidabilità di chi porta avanti delle idee perché è molto semplice se lei fa una scorsa dei programmi all'80% sono simili i programmi delle varie coalizioni il problema è che chi porta al giudizio popolare un programma ed è però stato implicato o come sindaco in amministrazioni precedenti o come diciamo braccio destro del sindaco e continuatore di quel sindaco dovrebbero dire rispetto a quello che propongono cosa hanno realizzato nel passato ecco io credo che questo elemento manchi e se manca il dato di cosa è stato realizzato secondo me manca l'affidabilità perché credere che nel futuro si farà qualcosa quando nel passato per molti anni si è avuto la possibilità di farlo e non lo si è fatto ecco io credo che i cittadini i nocerini vogliano dare il consenso a chi dimostra di non essere in alcun modo coinvolto nei danni del passato non è che il passato va cancellato perché è tutto brutto va però selezionato ciò che di buono c'è stato va valorizzato e ciò che non di buono c'è stato va cancellato perché bisogna cambiare bisogna voltare pagina bisogna finalmente mettere una classe dirigente politica che sia capace e all'altezza dell'amministrazione della nostra grande città bisogna ritornare all'orgoglio di essere nocerini lei sembra un campione di far play qualcosa l'ha detto insomma rispetto ai suoi competitor crede che i cittadini siano stati nelle condizioni di farsi davvero un'idea vedendo anche quel confronto elettorale che l'ha vista insieme ai suoi colleghi competitor beh io tutti sanno che sono stato tra quelli che più hanno sollecitato il confronto con gli altri candidati ci sono stati dei confronti a parte quello diciamo televisivo anche con il comitato Nogori e in altre circostanze credo che la popolazione abbia avuto occasione di farsi un'idea per un voto informato e consapevole credo che la popolazione si sia resa conto di quali sono le differenze notevoli tra una proposta e l'altra credo che i nocerini si siano resi conto che noi siamo veramente nuovi e diversi rispetto a chiunque altro in queste elezioni Giovanni D'Alessandro candidato sindaco di Nocera al centro tutti al voto il 12 giugno Radio Base